Sono Valentina Cremona e sono un'imprenditrice nel settore dei servizi alle imprese. Mi occupo di formazione e di assistenza linguistica tecnica. Sono anche presidente del gruppo Terziario Donna di ConfCommercio Treviso, il gruppo di imprenditrici iscritti a ConfCommercio che operano nel settore del turismo, del commercio e dei servizi. La mia femminilità è completa all'interno del mio lavoro, me lo sono inventato io, quindi il mio lavoro sono io e quindi porta avanti una serie di valori che sono quello della precisione, dell'inclusione, anche di fare un valore sociale per il territorio di riferimento. Come formatrice aiuto le altre persone a tirar fuori il meglio di sé. Un altro valore importante che io porto è quello dell'ascolto, l'ascolto delle esigenze dei miei collaboratori in primis, che sono i miei clienti interni, ma anche dei miei collaboratori esterni, dei clienti esterni, quindi di coloro che si rivolgono a noi per avere dei servizi. Nell'ambito del lavoro di formatrice o di servizi, diciamo, le donne sono tantissime, perché molte di noi sono laureate, sono preparate, quindi poi si inventano qualcosa per mettere proprio in gioco la propria preparazione. Io sono laureata in economia, quindi mi sono inventato un qualcosa che avesse a che fare con le imprese, soprattutto nel supportarle per essere più competitive, per trovare la strategia giusta e soprattutto per valorizzare le grandi risorse che hanno e che sono le persone che lavorano per loro.